Con l'obiettivo di premiare i cittadini aragonesi siciliani del territorio italiano in genere che si sono distinti particolarmente per i loro meriti artistici e culturali, si è svolta ieri sera la quarta edizione del Premio Principe di Aragona. La manifestazione, organizzata da Televiglio Aragona, diretta da Simone Costanza e presentata da Giussi Terrasi, si è svolta nel Palazzo dei Principi Naselli e la presenta di una cremita platea. Quest'anno il premio è stato consegnato a Tom Sinatra, noto un musicista di Re II ed è I Fatti Vostri. Sono onoratissimo di ricevere questo premio e di stare questa sera qui ad Aragona, peraltro una cittadina molto bella, molto ricca di storia, in questo palazzo principe dei Principi Naselli. E' veramente storia allo stato puro, sono felice veramente. Nel corso della serata sono stati premiati anche diversi protagonisti, il maresciallo di Aragona, Leonardo Di Mauro, gli amministratori comunali della città, Francesco Buscemi e Concetta Buscemi dell'Aeronautica Militare, poi ancora Grigento TV per la categoria testata giornalistica, Davide Sardo per la categoria giornalismo, i componenti di Televi di Aragona, Valeria Salvo per la poesia, Fabrizio Graceffa per la musica e tanti altri ancora. Una serata che ha richiamato tutta la cittadinanza e che dà l'appuntamento al prossimo anno. Il pubblico ha risposto bene al nostro invito, sono venuti molti. Speriamo di andare con la quinta edizione a breve per il prossimo anno. Non diciamo che abbiamo in mente chi chiamare per il prossimo anno, però lasciammo un po' di suspense. Speriamo di andare con la quinta edizione a breve.